Buongiorno a tutti da Monaco, dove siamo per la riunione congiunta delle quattro società europee, i quattro body europei, la medicina fisica e le abilitativa, la European Society, la European Academy e la UMS Sectioning Board. Come potete vedere il Presidente persino durante la pausa a caffè ci fa lavorare, ma non abbiamo altro tempo a disposizione. Abbiamo tutta l'intera giornata dedicata alla nuova edizione del White Book Europeo, che era pubblicato a gennaio sulle principali riviste che accetteranno di pubblicarlo. Il White Book Europeo è il libro che riconosce tutte le caratteristiche della nostra specialità. A questa edizione del White Book hanno collaborato tutti gli italiani che svolgono attività a livello europeo, quindi in particolare il nostro Presidente Paolo Moldrini, il nostro Vice Presidente Calogero Foti, poi Maria Gabriele Ceravolo che è Presidente del Board Europeo, Mauro Zampolini che è il Segretario della Section del Board a livello europeo, il sottoscritto Alessandro Giustini che è un esperto della Section, e poi abbiamo avuto anche altri colleghi che hanno collaborato come external reviewers, quindi come reviewer delle varie città.